numero 5 questo splendido reggiseno invisibile è ideale per sollevare il seno e può essere indossato con una varietà di abiti è una buona opzione per le ragazze con seni leggermente più grandi poiché ha un doppio sistema di supporto se vuoi mostrare la tua schiena nuda o qualsiasi altro look questo reggiseno è una grande alternativa ha un ottimo rapporto qualità prezzo e ancora di più perché può essere riutilizzato basta lavarlo con acqua calda a mano e lasciarlo asciugare su un gancio ha anche a suo favore il fatto che è resistente all'acqua e al sudore così come la consistenza e il colore lo rendono perfetto in modo che non si veda attraverso anche con camicette o abiti leggeri il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione numero 4 questi reggiseni adesivi sono fatti di silicone morbido che aderisce bene alla pelle senza causare irritazioni sono ideale per l'uso con una varietà di scollature e possono anche essere utilizzati per mostrare una schiena aperta è possibile riutilizzarli basta lavarli in un po di acqua fredda o calda e lasciarli asciugare naturalmente l'unica cosa da prendere in considerazione è di non esporli al sole anche se si stanno asciugando perché possono essere danneggiati puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 3 questo reggiseno adesivo è una delle migliori alternative se il tuo obiettivo è quello di indossare una camicetta un vestito o una giacca con una scollatura profonda questo è dovuto al design dell'orlo push up che raccoglie e solleva i seni facendoli sembrare più grandi è anche una buona opzione per le ragazze con grandi seni un altro vantaggio è che è riutilizzabile e può essere lavato a mano è anche comodo e leggero e l'adesivo non irrita la pelle se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 2 questo reggiseno in silicone è uno dei prodotti più rispettosi della pelle senza che crei irritazioni o fastidi il design ha una pratica clip nella parte anteriore che permette di modellare il seno è ideale per seni cadenti e separati è anche facile da allacciare e slacciare è resistente e riutilizzabile basta inumidire la superficie dell'adesivo con acqua calda un po di detergente delicato e lasciarlo asciugare all'aria aperta comodo e pratico una buona opzione da considerare acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 1 questo reggiseno è uno dei migliori per sollevare il seno poiché ha un push up incorporato è un'ottima scelta per donne con seni di piccole e medie dimensioni perché è molto di sostegno e migliora la forma del seno ciascuna delle coppe ha dei cuscinetti per i capezzoli e abbastanza adesivo per mantenere i seni nella stessa posizione per molto tempo nella parte centrale le due coppe sono unite e possono essere regolate meglio un vantaggio di questo tipo di reggiseno è che è fatto di materiali morbidi e resistenti infatti può essere riutilizzato senza alcun inconveniente trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video